L'assessore alle politiche sociali del comune di Capaccio Pestum, Annalisa Gallo, avvia una fase di ascolto con i cittadini attraverso degli incontri settimanali. Gli incontri si terranno ogni martedì dalle 15 alle 16.30 presso l'ufficio delle politiche sociali in Piazza Santini a Capaccio Scalo e il primo mercoledì di ogni mese dalle 10 alle 11 a Palazzo di Città. Un'iniziativa finalizzata ad ascoltare le persone più fragili e bisognose per poterle aiutare, spiega l'assessore Gallo. Faremo degli incontri cercando di capire quali sono le problematiche da affrontare e soprattutto cercando di trovare le soluzioni.